Paolo che è in fiero in caserma ma se ci vivevo. 正, C'è Rossi Bindi in collegamento con noi che ha guidato la Commissione Parlamentare Antimafia fuor giorno. RORI DIVIIIIIII Finalmente, possiamo dire, finalmente, abbiamo assicurato, come ci ha detto a Iara, a Sardella, le patrie, da lei, un super latitante di mafia, il capo di Cosa Notta. Finalmente, finalmente, trett'anni sono lunghi ma... Il risultato quando arriva è sempre occasione di soddisfazione, di gratitudine, di confronti della procura di Palermo che in tutti questi anni ha lavorato e cui tutti li raccoglie oggi il procuratore capo del scia e delle forze dell'ordine naturalmente. Dopo questa soddisfazione non si può che aprire un periodo di lunga riflessione e credo che le indagini non finiscono con l'arresto, anzi in qualche modo inizieranno. Abbiamo salutato Salvatore Cusimano, cominciano a uscire i primi dettagli, anche qui chiariamo che Matteo Messina Denaro è in questo momento una persona che gode della tutela dello Stato perché è stato arrestato e quindi non è una persona come... Quello che ci diceva Sabella è la tutela dello Stato che fa la differenza. Esatto, una tutela che dovrebbe riguardare anche la tua condizione sanitaria. Noi però non possiamo...